Questa mattina ci troviamo al Comune di Cava con l'assessore Vincenzo Lamberti per parlare di questa conferenza stampa bellissima che ha presentato la cooperativa Litodora per i centri estivi per i bambini. Bellissima iniziativa quella del centro estivo, iniziativa nella quale personalmente credo molto da anni a prescindere dal ruolo che rivesto in questi ultimi anni perché le attività estive organizzate e realizzate per i bambini veramente sono non solo importanti e significative ma sono fondamentali per la loro crescita. È stata una conferenza stampa particolare perché i protagonisti della conferenza stampa saranno i veri protagonisti di questa estate per quanto riguarda i centri estivi e non solo. Ho anticipato che è mia idea con la collaborazione dei centri estivi organizzare una grande festa per i bambini di Cava verso fine estate. Tra l'altro quest'anno abbiamo la possibilità nonostante le difficoltà di sostenere le attività estive per i minori e quindi daremo anche un piccolo sostegno alle varie organizzazioni di centri estivi sul territorio affinché queste attività non solo continuino ma migliorino sempre di più anno dopo anno.